mai concludere un incontro lo facciamo con la preghiera ma lo dovremmo fare anche con la con la predicazione cosa il signore ci ha detto che esperienza abbiamo fatto che frutti ha portato qui dal momento che lo viviamo sotto forma di ritiro il quarto tempo servirà non solo a fare il resume di quello che è accaduto ma soprattutto le testimonianze che subito raccontano che cosa è accaduto questo ci deve permettere di sviluppare questo aspetto del rinnovamento che era fondamentale alle origini cioè la testimonianza finita l'esperienza uno alza la mano e dice ho rivisto il fratello del pastorale in preghiera come non l'avevo mai visto un altro alza la mano e dice ho provato per lui un affetto che non sentivo più da tempo un altro dice c'è un segno avevo un mal di testa il signore me l'ha tolto un altro dice mi sento dentro una raccontare che cosa lo spirito sta facendo e può fare quello che vuole evidentemente ma noi non ne diamo spesso testimonianza talvolta non abbiamo neanche coscienza contezza di quello che sta facendo vi sembra strano questo leggiamo i vangeli e scopriamo che nuove lebrosi guariti non si erano accorti ma come si fa un lebroso che non si accorge di essere guarito e gesù è sorpreso come è possibile allora come è possibile che si conclude un incontro e il nostro alleluia finale non è il frutto della gioia di chi è stato visitato dal signore la gioia di ciò che si è imparato la gioia di ciò che abbiamo ricevuto questo si deve fare sempre la condivisione sempre sempre allora noi abbiamo voluto ridisegnare in questi quattro tempi uno stile di animazione di formazione che dovremmo avere sempre questo è l'obiettivo di questo incontro pastorale regionale pensato proprio per i pastori e pensato intorno a questa dinamica quadruplice allora voi scuserete se la sessione di questa mattina è un po modificata però se la comprendiamo bene la seconda la terza la quarta le vivremo in modo adeguato d'accordo quindi arriveremo fino a luna perché poi a luna abbiamo il pranzo facendo adesso subito l'esperienza spirituale è un breve resume è un breve racconto di ciò che il signore ha fatto in questa sessione d'accordo poi quella del pomeriggio la faremo seguendo diciamo in un modo più ordinato i quattro tempi che abbiamo previsto allora vi chiedo di invocare lo spirito santo su di me e ci mettiamo in piedi perché vivremo subito questo tempo di esperienza spirituale prendete naturalmente la bibbia con voi insieme alla parola e al foglietto parola foglietto e la pietra la tenete anche presente siccome dovremmo muoverci ma vedo che non si può fare la pietra la porrete davanti a voi immaginando che vi state muovendo per andare verso un luogo dove la dovremmo porre tutti ma la sala non ce lo permette va bene la dinamica della croce speriamo di poterla salvare ma questa immaginate che la stiamo ponendo tutti nello stesso luogo per costruire l'edificio spirituale va bene e quindi voi la porrete dove potete insomma quando quando vi sarà chiesto per favore pregate su di me grazie a tutti 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 sola facci vivere il desiderio di gesù facci sperimentare la bellezza dell'unità amen accomodatevi soltanto per due minuti nell'antico testamento abbiamo una immagine molto chiara in ageo 2 è un rimprovero del signore è impressiona perché questo rimprovero riguarda anche noi carismatici il popolo di israele amava il tempio non poteva stare lontano dal tempio la deportazione in babilonia segnò una grande sofferenza per questo popolo ma c'era una cosa di cui salmi ci danno notizia la nostalgia per il tempio del signore la nostalgia per l'unità che la musica il canto la preghiera esprimevano stando alla presenza del signore e finalmente il popolo di israele ritorna e a questo punto accade qualcosa di strano che tutti pensano a se stessi che tutti pensano alle loro case e il signore suscita a geo per fargli dire queste parole ma che fate chi costruisce la mia casa chi costruisce l'unità fratelli e sorelle noi potremmo lavorare molto per ravvivare i cuori dei nostri fratelli educarli alla fede accompagnarli preghiere di guarigione di liberazione e non costruire l'unità possiamo pensare al nostro gruppo alla nostra casa al luogo nel quale il signore ci ha messo al nostro ministero e non preoccuparci di costruire l'unità state pensando soltanto alle vostre case dice il signore e alla mia casa chi pensa attenzione perché noi non lavoriamo soltanto per il gruppo la comunità che il signore ci ha donato noi stiamo costruendo ogni giorno la chiesa questo si capisce facendo un passo avanti e andando nel nuovo testamento dove sia paolo che pietro parlano della chiesa non parlano soltanto di un tempio fatto da mano d'uomo il tempio di gerusalemme che bisognava ricostruire gesù dice quello crollerà quel tempio crollerà c'è un altro tempio paolo nella lettera dei corinzi lo dice chiaramente questo tempio siete voi c'è un edificio spirituale che va costruito e allora l'immagine bellissima che troviamo nella prima lettera di pietro e che troviamo in efesini si possono ricordare molto facilmente questi tre capitoli perché sono tutti due due il capitolo del profeta geo due è il capitolo della prima lettera di pietro e due il capitolo della lettera agli efesini e tanto paolo quanto pietro ma pietro da papa dicono bisogna costruire un edificio e ciascuno di noi viene usato da dio come una pietra viva pietra viva in questo momento mi commuovo perché nel 1995 96 facevamo una dinamica a lingua glossa io padre mario e padre matteo e parlavamo 15 minuti ciascuno e poi gli ultimi 15 parlava l'assemblea pensavate dividevamo una catechesi in quattro parti ed era il momento della pietra viva e ricordo che padre mario aveva inventato questa cosa avevamo pregato due giorni insieme tutti e tre a palermo per capire cosa fare diceva non voglio una pietra levigata me la dovete dare appuntita ma è vero guardate i muri a secco se le pietre sono levigate non reggono le pietre devono avere asperità devono essere irregolari allora più facilmente possono incastonarsi l'una nell'altra e questo diceva padre mario ogni pietra deve portare siamo le nostre vite dobbiamo portare vite accidentate vite spigolose vite refrattari all'unità e però quando una pietra si unisce all'altra ecco il miracolo dello spirito lui le leviga le fa diventare belle da una forma questo è l'edificio spirituale portate voi stessi avvicinatevi e venite usati dallo spirito come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale ciascuno di noi che è già edificio spirituale costruisce quel grande tempio che la chiesa costruisce quel grande tempio che rinnovamento nello spirito è sufficiente tutto questo non voglio dirvi di più perché lo spirito aggiunge adesso altro al vostro cuore ma è quello che adesso vogliamo fare il fondamento di questo edificio spirituale che il nostro ministero ecclesiale il nostro è un ministero ecclesiale lo statuto dice che il nostro servizio è nella chiesa e per la chiesa c'è una differenza sostanziale tra noi e altri movimenti carismatici e altre realtà carismatiche noi abbiamo un servizio ecclesiale riconosciuto dalla chiesa per costruire la chiesa per rinnovare la chiesa siamo orientati alla costruzione di questo edificio spirituale a costruire l'unità e guardate che la nostra gente questo lo ama quando ci vede uniti impazzisce di gioia quando vede che un gruppo è unito a un altro gruppo che un gruppo aiuta un altro che una diocese aiuta un'altra impazzisce di gioia quando ci vedono permalosi presuntuosi orgogliosi mio tuo il nazionale il regionale l'universale lo stratosferico non capiscono più nulla cristo l'unità ripartiamo allora dalla parola profetica che ciascuno di noi ha avuto perché questa è prima di tutto una chiamata all'unità è una parola data per l'unità del corpo che si chiama il pastorale per l'unità del non è data a te è data un corpo non è data solo a te non è data in funzione di te è data perché tu con questa parola costruisca quell'edificio spirituale che il pastorale che il comitato non hai letto solo te il signore hai letto qualcuno a fianco a te e non puoi dire perché lui sì o perché lui no giovanni 15 non voi vi siete scelti io vi ho scelti e perché Gesù dopo aver pregato una notte sceglie quei dodici in mezzo a 72 e perché dà la cassa a giuda che tutti sapevano che rubava e perché sceglie simone lo zelota e levi il pubblicano due nemici dichiarati che la notte si accoltellavano perché sceglie pietre così aspre perché perché si compie il miracolo perché si vede che essendo uniti a lui tutto viene in unità ecco la pietra angolare se queste pietre vive sono messe sulla pietra angolare se la nostra unità è in Gesù se la nostra fede nella sua parola ecco il miracolo ci ritroviamo uniti ma non perché ci vogliamo bene ma perché siamo uniti a lui ma non perché ci somigliamo ma non perché abbiamo la stessa età ma non perché abbiamo lo stesso ceto sociale ma non perché abbiamo la stessa faccia ma perché siamo uniti a lui possiamo essere amici possiamo essere uniti diventiamo fratelli questa è l'esperienza che adesso andiamo a fare allora la pietra ci ricorda che dobbiamo costruire l'unità e lo dobbiamo fare insieme non lo possiamo fare da soli e lo dobbiamo fare fissi in Gesù la seconda c'è una parola che ce lo dice e lo dice in modo diverso perché è chiaro che questa parola profetica è diversa di gruppo in gruppo di dios ma è la chiamata all'unità è la prima parola con la quale il signore ha voluto costruire l'unità nel pastorale o nel comitato allora cosa facciamo adesso adesso entriamo in preghiera e vi mettete davanti questa parola e la cominciate a pregare vi mettete davanti questa parola e chiedete allo spirito che ve la faccia vedere come non l'avete vista mai ma ve la deve fare vedere nelle relazioni con giampiero con andrea con don matteo è vera questa parola è viva è efficace o devo cominciare a chiedere perdono guarigione liberazione consolazione ciascuno di noi lo invochi e così sarà invocazione comunitaria ognuno di noi chieda l'assistenza dello spirito l'unzione dello spirito vieni spirito vieni e non tardare e vieni e rinnova i prodigi vieni e conferma ci nella fede vieni e risveglia la fede carismatica vieni e faccia sentire un nuovo amore vieni e faccia avanzare anche tra i pericoli le prove faccia avanzare vieni spirito santo vieni con gloria vieni con grazia vieni con potenza vieni vieni con sapienza vieni con amore vieni stendete le mani verso di me chiedete che su di me scenda lo spirito inostitu conti cut inarat inteэ rentko sentyastいき cocite inti nata matins nato segantyastaten chi tirErico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci apriamo a Te, Spirito Santo, e vogliamo godere della Tua presenza salvifica, santificatrice, consolante, rigenerante, rinnovatrice. Vogliamo stare nel soffio della Tua azione. Guidaci ancora in questa sessione, guidaci nel lavoro che ci attende. Confermaci nella grazia del rinnovamento nello Spirito, perché possiamo essere degni di servirlo. Amen. La parola profetica, la parola che sta a fondamento di questa seconda sessione, la troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5. Questo capitolo 5 è un capitolo nel quale San Paolo ci dà un esegesi della vita carismatica. Allora, non dimentichiamo mai quali sono i due elenchi paolini nei quali abbiamo ragione della vita carismatica, gli due elenchi paolini. Il più famoso sono i nove carismi indicati in prima Corinzi 12 e il secondo elenco sta sempre in un altro capitolo 12 della lettera ai Romani. Non è un elenco puntuale come quello che troviamo nella prima Corinzi 12. Potremmo dire che in prima Corinzi 12 sono elencati i carismi, in Romani 12 sono elencati invece i carismatici, cioè a dire i ministri. Si elencano i ministri, il ministero presuppone il carisma evidentemente, quindi sono i due elenchi. Ma il capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi è interessante perché Paolo dà le dinamiche della vita carismatica comunitaria e qui mette in auge, in un modo assai importante, la preghiera e la profezia. In questo capitolo 5 noi troviamo due importanti rimandi alla preghiera e alla profezia. È interessante, per esempio, che nel capitolo 12 della lettera ai Corinzi, che a noi sta tanto a cuore, non c'è un rimando alla preghiera. È sottesa. Questo è molto importante, fratelli carissimi e sorelle. I carismi elencati in prima Corinzi 12 sono la descrizione di un'assemblea riunita in preghiera comunitaria. Non è l'elenco di tutti i carismi che sono dati alla Chiesa. Non è l'elenco di tutti i carismi necessari per la missione. Sono i carismi dati ad una comunità, ad un'assemblea riunita in preghiera. È chiaro questo? Questo è estremamente importante. Poi è evidente che i carismi hanno anche una proiezione esterna, missionaria. Ma Paolo sta descrivendo una comunità che prega. Ecco perché non parla della preghiera. Presuppone la preghiera perché descrive quali dinamiche la preghiera propone. E' qui il fondamento della nostra sessione. Il fondamento della preghiera comunitaria non è la preghiera comunitaria. Il fondamento della preghiera comunitaria è la profezia, è la parola. Cioè, perché andiamo a pregare insieme? Non per fare preghiere, ma per ricevere la parola profetica attraverso la quale possiamo pregare. Per ricevere la parola profetica attraverso la quale nella preghiera facciamo esperienza della guarigione, della conoscenza, della sapienza. Cioè, tutte quelle azioni che troviamo descritte nei nove carismi di prima Corinzi 12 sono effetto non della preghiera, ma della parola profetica che ci permette di farne esperienza. Cambia tutto. Quindi quando diciamo che andiamo a pregare, è vero, certo, andiamo a pregare. Questa è l'azione manifesta. Ma perché il Signore ci parla. E perché quella parola profetica si compie. Attraverso la preghiera. La riceviamo in preghiera. La comprendiamo pregando. E ne facciamo esperienza pregando. Ripeto, come la riceviamo la parola? La chiediamo. Invochiamo lo spirito. Quindi preghiamo. Come la comprendiamo dopo che è stata proclamata? Come si fa l'esegesi della parola? È pregando. Un fratello comincia a pregare e dice, Signore, grazie perché ci hai detto questo. E un altro dice, e tu ci hai detto questo. E poi parte il canto che è intonato. E quella è l'esegesi della parola. E però, se però la parola dice, io vi guarirò, noi non ci limitiamo a fare il canto sulla guarigione. O a dire, Signore, grazie perché ci vuoi guarire. Che facciamo dopo? E diciamo, Signore, guariscici. E non dobbiamo aspettare il rovetto ardente del web meeting. O che venga, dicevamo prima, Padre Onesimo. Preghiamo noi perché il Signore guarisca. Cioè la fede terapeutica di una comunità. Questo è il fondamento della nostra sessione. Ricentrarci sul valore profetico fondante della preghiera comunitaria carismatica. Allora, il verso generale, portante. Siate sempre lieti. Pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie. Non spegnete lo spirito. Non disprezzate le profezie. Guardate la progressione. Ma l'ultima parola è quella che conta, da cui tutto parte. Qual è l'ultima? L'ultima profezia. E qual è la prima? Siate sempre lieti nella preghiera. E cos'è il rinnovamento? È un moto di letizia, è un moto di gioia, è un moto di lode, è un moto di alleluia. Quindi, è una preghiera gioiosa. Ma perché? Perché c'è gioia? Perché il Signore è presente. Perché il Signore è vivo. Perché il Signore è in mezzo a noi. Andiamo a leggere allora la prima parola profetica che sta nella proclamazione di questo nostro tema. Prima, Corinzi 14, 24, 25. Qui Paolo sta spiegando cosa fa la parola. Il capitolo 14 è l'esegesi del carisma di profezia, anche delle lingue. Paolo dà alcune indicazioni. Ma qui ci fa vedere non come si deve usare, ma che cosa fa la profezia. Paolo spiega a che vale la profezia, dalle tre regole fondamentali. Queste cose le dovremmo sapere a memoria, che vi sto dicendo. Sono proprio la regola fondamentale di una comunità carismatica. Paolo dice, ci deve essere edificazione, ordine e decoro. Tre elementi portanti. Poi spiega, tutti possono profetare, tutti lo potete fare. Spiega il criterio della sottomissione. Spiega l'alternanza 2-3. Ma qui dice invece cosa fa la parola. C'è qualcuno che ce l'ha e lo vuole leggere ad alta voce? L'avete preso? Prima, Corinzi, 14, 24, 25. Se c'è qualcuno, ho piacere che lo proclami ad alta voce. Eh, che sono bravi qui. È già scritto. Se invece tutti profetizzano e sopraggiunge qualcuno che non credente o non iniziato verrà da tutti convinto del suo errore. Attenzione, qui non si sta parlando della profezia intesa come dice il Signore, la parola apertura della Bibbia. Qui si sta parlando del regime profetico dell'incontro comunitario. Cioè, tu entri e vedi tutta un'assemblea profetica. Perché quella preghiera è profetica, perché quel canto è profetico, perché il gesto di abbracciarci è profetico, perché l'accoglienza è profetica. Cioè, uno che non ne capisce niente, uno che non ne sa niente, ed entra e vede che tutti profetizzano, cioè tutti sono ministri dello Spirito, che fa? Cosa fa? Primo viene convinto del suo errore. Questo significa conversione. La parola deve convertire, è la prima azione fondamentale. Quando la parola ti tocca, quando sei in un'assemblea profetica, la prima azione è la conversione. E così, questo è bellissimo, prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando Dio è veramente fra voi, Filippesi 2. Ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua che Gesù è il Signore, che qui c'è Dio. Si mette in ginocchio, qui c'è Dio. Primo aspetto, allora, il potere della parola che converte. Parola che converte. Ma la percezione è che la nostra è un'assemblea profetica, profetica. I responsabili, gli animatori, devono vigilare molto su questo. Dunque, al cuore non è la nostra capacità di parlare, ma la nostra capacità di ascoltare, perché nella profezia parla Dio. È il Signore che parla. Come era bello all'inizio del rinnovamento, si sentiva spesso, era la profezia per locuzione verbale, mentale. Dice il Signore. Si sentiva un fratello che diceva dice il Signore. e c'era un silenzio, un secondo, due secondi di silenzio. Dice il Signore. Che dice il Signore? Se il Signore dice, accade questo. comprendi che sei nell'errore, comprendi che la vita nuova non sta progredendo, comprendi che devi avanzare, comprendi che devi decidere. Quello che, per esempio, abbiamo vissuto questa mattina. seconda parola portante e qui in qualche modo lo troviamo già indicato. Paolo lo spiega prima nel capitolo 2 di questa prima lettera. Il capitolo 2 della prima lettera ai Corinzi è forse il capitolo più importante per capire il rinnovamento nello spirito. Il capitolo 12 ci fa capire la dimensione carismatica. Il capitolo 2 ci fa capire la dimensione spirituale della vita nuova. È tutto un capitolo dove la parola spirituale ricorre continuamente. L'uomo spirituale pensa in modo spirituale, parla in modo spirituale, decide, si comporta in modo spirituale ed è spirituale perché non pensa secondo lo spirito del mondo ma secondo lo spirito di Dio. E che cos'è questo spirito di Dio? Una manifestazione sorprendente, inattesa, cioè si manifesta a chi vuole e permette di conoscere i segreti di Dio. Dunque, quando lo spirito si manifesta i segreti del nostro cuore mutano e lasciano il posto ai segreti di Dio, la gloria di Dio, la sapienza di Dio. In questo capitolo, non so se possiamo a questo punto andare avanti, se c'è... No. Prima, Corinzi 2. Ecco. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo. Lo spirito del mondo è lo spirito dell'errore di cui aveva parlato poc'anzi San Paolo. Sarà convinto del suo errore. Lo spirito del mondo è lo spirito dell'errore. Giovanni 8. Gesù lo dice. È uno spirito menzognero. Padre Matteo Lagrua lo diceva sempre in un modo molto chiaro. il maggiore numero di vittime il maligno non lo fa non le fa col satanismo ma con lo spirito dell'errore. Anche un vescovo nella storia della Chiesa anche un Papa lo spirito dell'errore. Non avere la percezione che siamo nell'errore. Lo spirito dice Pietro il diavolo dice Pietro confonde anche le menti degli eletti. Non ci fa vedere l'errore. Non lo vediamo. Non ci sentiamo nell'errore. Che cosa fa lo spirito? Ci permette di conoscere ciò che Dio ci ha donato. Queste cose noi le possiamo dire ecco la profezia non con parole suggerite dalla sapienza umana ma insegnate dallo spirito significa suggerite dallo spirito dettate dallo spirito così che possiamo esprimere cose spirituali in termini spirituali e qui non sei né un laureato cioè hai cultura né uno specializzato cioè hai la teologia è lo spirito che fa parlare è lo spirito che dà accesso ai segreti di Dio e li manifesta quando vuole a chi vuole questo avviene nei nostri incontri di preghiera quante anime elette che ci sono che aprono la bocca e voi sentite meraviglie rimanete incantati vi è successo questo? li avete conosciuti questi fratelli li avete avuti in mezzo a voi e uno rimane ammirato e dice ma come fa questo a parlare così a dire queste cose chi gliele ha insegnate ecco sentite come è preciso San Paolo chi gliele ha insegnate lo spirito chi gliele fa dire lo spirito questa è la nostra assemblea comunitaria carismatica altro che preparare è tutto inedito ed è tutto meravigliosamente realizzato dallo spirito santo ma se c'è la parola ecco noi non diciamo quello che ci capita ma è suggerito dallo spirito ecco perché dobbiamo sempre stare attenti e precisare che le nostre preghiere non sono spontanee questo noi diciamo sempre la preghiera è spontanea no la preghiera è ispirata insegnata la parola è dettata dallo spirito cambia tutto perché ci accorgiamo che siamo sotto un altro regime che non è quello umano della sapienza umana terza parola e questo è un capitolo meno noto è la lettera agli ebrei siamo al capitolo 2 della lettera agli ebrei ma si parla in un modo più ampio di quella che ecco no potremmo definire la realtà propriamente carismatica di un gruppo di una comunità altrimenti la leggiamo dalla bibbia se non c'è no ebrei eccola qui essa cosa cosa è la parola che salva la parola salvifica il piano di salvezza di dio la bibbia la scrittura la parola cominciò a essere annunciata dal signore fu confermata a noi da coloro che l'avevano ascoltata mentre dio ne dava testimonianza con segni e prodigi e miracoli di ogni genere e carismi dello spirito distribuiti secondo la sua volontà distribuiti secondo la sua volontà ciascuno è dato un dono dello spirito lo sappiamo in prima corinzi 12 ma qui c'è un piano più interessante questi carismi questi segni questi miracoli questi prodigi sono la testimonianza Giovanni 15 lo dice Gesù voi mi renderete testimonianza perché cosa dice Gesù lo spirito mi renderà testimonianza ma se lo spirito non ci rende testimonianza come facciamo ad essere testimoni e qui Paolo è chiaro lo spirito rende testimonianza di Gesù e della potenza della parola così che poi noi dice Gesù possiamo diventare testimoni allora rileggiamolo perché abbiamo bisogno nei nostri gruppi quando ci riuniamo di tutto questo perché non potremmo essere testimoni questa parola fu annunciata da Gesù inizia lui fu confermata a noi da coloro che l'avevano ascoltata cioè noi discepoli perché gli apostoli l'hanno trasmessa d'accordo Gesù gli apostoli noi 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 proprio noi i discepoli dopo duemila anni e noi che dobbiamo fare stare dentro questo piano perché Dio ne dà testimonianza consegni prodigi miracoli di ogni genere doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà ecco perché è una preghiera carismatica ecco perché è una parola profetica ecco perché diventiamo testimoni dello Spirito perché tutto questo è il piano di Dio e dunque se noi adesso ci osserviamo e guardiamo i nostri gruppi le nostre comunità diciamo beh abbiamo un po' di cose da sistemare allora perché abbiamo ritenuto di poter fare a meno della profezia l'abbiamo usata abusata trascurata usate tutte le parole che volete ma soprattutto abbiamo rinunciato ad una preghiera che fosse carismatica ci siamo accontentati che fosse comunitaria non carismatica ci siamo accontentati che fosse spontanea non ispirata non ci siamo preoccupati che fosse accompagnata da segni prodigi miracoli di ogni genere e doni dello Spirito Santo qui c'è un'altra cosa molto interessante che vi vorrei segnalare ma non perché vorrei fare esegesi ma per dirvi quanto è complesso questo mondo spirituale se prendete il famoso elenco di San Paolo in cui Paolo elenca i carismi quell'elenco di carismi l'esegesi non è diciamo fatta bene sono tutti sono tutte parole declinate al plurale in greco vi ricordate cosa dice vi sono diversità di carismi la guarigione la sapienza la conoscenza le lingue sono tutti al plurale le guarigioni le profezie cioè all'interno c'è una diversità è una ricchezza tutta da esplorare non la guarigione ma tanti tipi di guarigione non una profezia ma tanti tipi di profezia e se noi che siamo il movimento carismatico non abbiamo questa aspirazione questo desiderio questa fantasia capite che rinnovamente è morto muore è moribondo questo è importantissimo per noi essere nello spirito significa fare esperienza di questa gioia non lo dimenticate siate sempre nella gioia il Signore è con voi e chi sta con voi ed entra in un'assemblea carismatica e sente il potere di questa parola e riceve la vostra testimonianza di fede anche lui diventerà uno dei vostri anche lui adorerà il Signore anche lui sentirà che allo spirito del mondo si sostituisce lo spirito di Dio allo spirito dell'errore lo spirito di verità Giovanni 8 lo spirito di verità Gesù che è il contrario l'antidoto dello spirito dell'errore che è spirito menzognero dice Gesù spirito di menzogna spirito dell'errore spirito che confonde la mente degli eletti ecco altre cose vorrei dirvi ma preferirei che me le suggeriste voi adesso nella forma dialogica della nostra della nostra catechesi aggiungo soltanto una cosa che non so se è stata detta in premessa ma che mi sembra molto importante e che sta a fondamento di questo nostro incontro pastorale abbiamo voluto riassumere in tre parole portanti l'effetto dell'effusione dello spirito in un fratello in una sorella in un gruppo in una comunità del rinnovamento per dirsi rinnovamento nello spirito noi dobbiamo fare esperienza e quindi nello spirito condotto dallo spirito guidato dallo spirito dobbiamo fare esperienza di tre dimensioni l'effusione dello spirito le deve poter come dire sviluppare dipanare renderle sempre presenti sono tre elementi costitutivi strutturali di cui un pastorale non deve mai privarsi cioè stiamo camminando nello spirito ci sono tre cose che non possono mancare questo gruppo questa comunità sta vivendo l'effusione dello spirito prima che chiederci se abbiamo la guarigione o la liberazione quali sono gli elementi portanti sono tre parole chiave che in fondo abbiamo già incrociato qui ma incrociamo sempre quando parliamo dello spirito sono molto facili amore sapienza e potenza amore sapienza e potenza l'amore è il registro dei carismi lo sappiamo bene l'amore è il termometro della comunità l'amore è l'effusione dello spirito romani 5 non può deludere questo è un cammino che non può deludere nessuno perché l'amore è stato effuso in noi perché c'è amore è il primo tratto chiarissimo se l'effusione dello spirito non ha generato un nuovo amore c'è un problema se coloro che hanno ricevuto la preghiera di effusione non manifestano un nuovo amore per Dio per la chiesa per il rinnovamento c'è un problema due la sapienza nell'elenco di prima corinzi 12 dei nove carismi i primi due carismi sono carismi di sapienza isaia 11 i doni dello spirito sono tutti doni sapienziali giacomo 1 se qualcuno difetta di sapienza la chieda al signore che volontieri l'accorda come fa un pastorale a non avere sapienza come fa un anziano un responsabile un sacerdote una guida pastorale a difettare di sapienza la chieda dice giacomo maggiore la chieda il signore volentieri la elargisce sapienza è il discernimento sapienza è la conoscenza delle scritture sapienza per un responsabile è la conoscenza del magistero non possiamo improvvisare e terzo potenza atti 1 8 riceverete potenza e la potenza è qui stata espressa nel pensiero della lettera agli ebrei allora riassumiamo questo cammino generato dallo spirito procede per amore sapienza e potenza l'amore come regolatore termometro specchio la sapienza come la modalità attraverso la quale noi impariamo cresciamo stiamo alla scuola dello spirito impariamo facciamo esperienza è la potenza come la manifestazione della gloria di Dio che deve sempre accompagnare il nostro cammino e in questa sessione il rapporto tra preghiera e parola di più la discendenza della preghiera dalla parola perché sia profetica intorno a tre parole fondamentali che la Bibbia ci ha ricordato prima corinzi 14 vediamo ricordiamole insieme prima corinzi 14 stesso capitolo stesso libro prima corinzi 2 ebrei 2 qui riassumiamo i tre elementi portanti di questa potenza nel primo abbiamo detto potenza di conversione la seconda l'uomo spirituale vi ricordate che pensa in modo spirituale che parla in modo spirituale è il termometro della vita nuova è il senso del perché ci chiamiamo rinnovamento nello spirito perché ci chiamiamo rinnovamento nello spirito e non rinnovamento carismatico per omaggio a questo capitolo 2 della prima lettera ai corinzi dove si evidenzia la vita nuova nello spirito il diavolo è carismatico sì o no sì o no ma non ha la vita nuova a corinto erano carismatici sì o no e come inizia l'elogio della prima lettera con un elogio di tutti questi carismi ma c'era la fornicazione c'era l'incesto c'erano i fratelli portati nei tribunali pagani c'erano i poveri che andavano alla preghiera a stomaco vuoto e i ricchi che mangiavano questa non è vita nuova allora è fondamentale che la vita carismatica sia espressione della vita nuova questa è prima sapienza 2 prima corinti 2 e terzo terza parola la dimensione profetica è dimensione di potenza di potenza carismatica di potenza dinamica di azione una comunità non è mai statica non è mai ferma noi siamo fermi qui ma lo spirito ci mette in moto muove tutto muove la storia secondo la parola di Gesù ecco perché dice andate mettete al lavoro lo spirito ci dice Gesù ma muovetevi lasciatevi muovere dallo spirito ecco questo è il piano fondamentale intorno al quale noi vogliamo ricentrarci per rileggere la nostra preghiera comunitaria adesso abbiamo spazio per sollecitazioni risonanze profetiche legate a questo impianto grazie a tutti